È possibile sfruttare la fine della crisi per realizzare dei buoni investimenti immobiliari? Se ne è parlato a Palazzo Lascaris, in un convegno che ha messo a confronto i professionisti del settore immobiliare torinese con federe consumatori. Obiettivo? Fornire strumenti adeguati per sfruttare al meglio le nuove opportunità immobiliari che si prospettano nel prossimo futuro nell'area del torinese.